Sono Carlo Taviani, sono ricercatore dell'Istituto Storico Italo-Germanico FBK. Io mi occupo della transizione di un modello finanziario dalla Genova del 1400 alle società per azioni dei secoli successivi. Questa istituzione finanziaria si chiamava Banco di San Giorgio. Io studio il fatto che questo Banco di San Giorgio ha avuto delle influenze sui modelli successivi, in particolare sulle società per azioni. Nel corso dell'Ottocento alcuni studiosi tedeschi studiano le società per azioni e si accorgono che le prime nascono nell'Olanda e nell'Inghilterra del Seicento. Studiando le caratteristiche di queste società si accorgono anche che nell'Italia del Medioevo, quindi due secoli prima, alcune istituzioni finanziarie avevano delle caratteristiche molto simili. I paragoni che essi istituiscono sono però tutti di tipo finanziario. Non si rendono conto o non sono interessati al fatto che le società per azioni, quelle inglesi e olandesi del Seicento, avevano anche dei grandi territori che governavano. Erano degli stati privatizzati. Battevano moneta, avevano bandiere e mandavano i propri eserciti nei territori che controllavano. L'istituzione che io studio, il Banco di San Giorgio a Genova, che nasce nel 1407, aveva anch'esso uno Stato che controllava, un territorio. Io studio quindi la transizione di questo modello, guardando i testi dei giuristi, dei pensatori, degli storici e vedendo le influenze che ha esercitato, in particolare sulle società per azioni. Grazie. 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 Grazie.